Ciao, sono Federica, ho 14 anni, come sport io pratico la palla a volo, la pratico da 8 anni. Per me la palla a volo è uno stile di vita, mi piace perché c'è molta competizione, c'è molta amicizia, sento tantissima amicizia con persone che non conoscevo. L'unione nella squadra deve essere fondamentale per vincere ogni partita anche perché se non c'è l'unione nella squadra non si va da nessuna parte. Per me lo sport in generale è stupendo, è qualcosa di stupendo perché conosco persone di tutte le province, di tutte le città. Ho imparato ad essere più sociale, anche con la palla a volo, ho imparato ad essere più forte. Ciao a tutti e un bacio. Grazie a tutti.